Amici Atalantini una buona serata, un buon ultimo dell'anno, ormai sono le ultime ore di questo 2012 in salsa nera azzurra ed è anche l'ultimo appuntamento del 2012 per quanto riguarda A come Atalanta. Tante trasmissioni si sono succedute in questi 12 mesi, in particolare durante l'attività agonistica dei ragazzi di Stefano Colantuono. I ragazzi di Stefano Colantuono che hanno ricominciato proprio la giornata di ieri il lavoro al centro Portolotti di Zingonia per tornare tonici in vista della ripresa dell'ostilità del campionato fissata per il weekend dell'Epifania, in particolare l'Atalanta. L'Epifania affronterà a Verona il Chievo Verona e sarà quella l'ultima partita del girone di andata. Un girone di andata comunque finora portato avanti alla grande dai ragazzi di Stefano Colantuono comunque in linea con quelle che erano le più rose aspettative della vigilia di questa stagione. 22 punti recita la classifica, undicesima posizione quindi a metà classifica sarebbero 24 quelli conquistati sul campo con l'ultimo punto conquistato, lo ricordiamo poco prima di Natale in casa contro l'Udinese. E allora andiamo a rivivere quello che è stato un 2012 sicuramente positivo in casa Atalanta, 12 mesi fitti fitti di soddisfazioni, anche di amarezze, magari cocenti come ad esempio quel 5-1 di recente memoria incassato in casa contro il Torino. Ma ci sono state anche prestazioni superlative, abbiamo battuto anche talvolta le big di questo campionato, addirittura due volte il Napoli lungo questo 2012. Allora abbiamo pensato di raggruppare spezzoni di trasmissione proprio targati A come Atalanta, ma in alcuni casi targati anche calcio all'inizio, Atalanta in campo, la trasmissione che segue proprio da vicino in diretta le gesta dei ragazzi di Stefano Colantuono. Abbiamo portato avanti questa sorta di collage che andiamo a proporvi all'interno di quest'ultimo appuntamento del 2012 per augurarvi una volta di più uno splendido inizio di 2013, sperando che sia anche suffragato dai risultati della nostra amata Atalanta. Allora partiamo subito, andiamo a rivivere i primi spezzoni di questo 2012 e poi temporalmente andremo sempre più avanti sino ad arrivare al dicembre che stiamo per concludere. Spazio che torna alla regia. Alla mia destra? Alla mia sinistra? Questo? No, a destra, a destra. Questo? Esatto. Eh beh. Rieccoci insieme, stiamo sempre andando ad annotare, sto dicendo non so cosa dire, aspetta un attimo, cazzo sto dicendo, aspetta fammi far mente locale, no devo capire dove inserirmi, un attimo, va bene. Amici Atalantini, ultimo appuntamento dell'anno di Acome Atalanta, stiamo andando a rivisitare quello che è stato trasmesso nelle tante, tantissime ore di Acome Atalanta ma anche di calcio inizio Atalanta in campo in questo 2012, ormai davvero agli sgoccioli, siamo pronti con energia rinnovata per affrontare il 2013, ricordo Atalanta in campo nel weekend dell'Epifania a Verona contro il Chievo. Abbiamo visto gli spezzoni che andavano a riepilogare alcune trasmissioni della passata stagione ma che comunque fanno parte di questo anno solare, adesso ricominciamo da settembre con l'annata 2012-2013, linea che torna alla regia Acome Atalanta, sempre presente sul canale 85 nel digitale terrestre e in diretta streaming sul sito internet videobergamo.it Abbiamo rivisto un po' di situazioni che si sono appunto palesate in questo 2012 all'interno di Acome Atalanta e calcio inizio Atalanta in campo, tanti gli amici che hanno frequentato i nostri salotti, centinaia di ore di diretta, davvero tantissime anche le puntate e tantissimi gli amici, gli ospiti che si sono turnati all'interno di questo salotto, ne abbiamo calcolati 167 nel corso del 2012 solo per Acome Atalanta, che ringraziamo e abbracciamo tutti ovviamente rivolgendo gli auguri di un felice, io aggiungo, strepitoso 2013. Ma sì, dai, esageriamo, speriamo che sia davvero l'anno giusto anche per una rinascita calcistica, che l'Atalanta possa fare ancora qualcosa in più rispetto a quello che già di positivo ha fatto nel corso del 2012. A proposito di cose belle, di cose positive, che ne dite? Andiamo a rivivere anche i gol magari più belli segnati dall'Atalanta in questo 2012, selezionati dalla nostra redazione sportiva, magari anche voi li potrete giudicare da casa, questi secondo noi sono i dieci più belli del 2012 da parte dell'Atalanta. Bergamasca, calcio! No, devo chiudere. Bellissime emozioni, bellissimi gol, ancora luccicano gli occhi rivedendoli con Dennis che ha svolto il ruolo di gran mattatore all'interno di questa rassegna, di questa sorta di top ten, magari altri molto belli li abbiamo dovuti lasciare da parte per ragioni di spazio e per ragioni di tempo. Si conclude anche questo ultimo appuntamento dell'anno di A come Atalanta, un appuntamento speciale nel quale abbiamo rivisitato appunto quello che è accaduto durante questi 12 mesi. Non mi rimane altro che augurarvi una buona chiusura di 2012 ma soprattutto un felice inizio di 2013. Sempre al fianco dell'Atalanta, anche noi della redazione sportiva di Video Bergamo. Prossimo appuntamento in salsa Atalantina, ovviamente il giorno dell'Epifania con calcio d'inizio Atalanta in campo per seguire la sfida di Verona contro il Chievo e poi riprenderà il giorno successivo anche A come Atalanta. Ma dal 2 gennaio riprende anche il contenitore quotidiano di Atalanta Channel alle 20.15 in diretta con replica alle 22.30. Insomma il cuore di Video Bergamo batte al fianco del cuore dell'Atalanta. Noi sempre vicini anche nel 2013, ancora tantissimi auguri, un abbraccio a tutto il mondo atalantino da parte di A come Atalanta. Grazie, buona conclusione per anno e felice 2013!